Allora siamo qui, benvenuti a tutti su Resident Evil Village, un gioco di merda dove ci sono delle gnocche onestamente che ci inseguono ma noi dobbiamo scappare, ero io il personaggio? Ovviamente, morrivo quantomeno bene in mezzo d'ora, però vabbè, questo è un problema suo, fuggi dal castello, vabbè almeno sappiamo l'obiettivo della missione, regia la musica, grazie Ah ok, consulta gli obiettivi, meno male, dov'è difi? Fuggi dal castello, eh grazie al cazzo che dobbiamo fuggire, però cosa avevo fatto io qua? Non mi ricordo ragazzi, credete? Ah vero, ma dovevamo trovare le tre maschere per uscire, vero, 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 ora sto ricordando un po' Allora intanto in questa zona penso che non ci siamo mai entrati, che è il rozzo, oppure comunque c'è qualcosa da prendere Ma ma cos'ho? Bomba artigianale, e qua non c'è niente, allora qua c'è un storm del cazzo, almeno sappiamo dove andare Qua ci vuole un grimaldello per questa porta, io non so se ce l'ho, ma ci proviamo Andiamo, finché poi che non accende la torcia, sto personaggio di merda, ce l'ha ma non l'accende Oh porco, madonna mia l'attacco Guarda tu, troia Guarda qua, di poco lei, porca puttana Ah, 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 ah E' vero che non gli faccio niente, no, aspetta un po' Come ti senti? No, toto a posto, non c'è di che, tutto bene Sorelle, veniti a prendere Dove vado, dove vado, dove vado C'è un cazzo, tutto luce, ma questa è un'aria nuova, ragazzi Come sono, camera? Da letto Bella signora Vieni qua, venga qua Ah, questo mio porca puttana, ma basta Storm sottolineatura vale 0,9 cdx1 ma se non c'è niente no 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 non si apre più se ne vada non c'è la finestra qua devo non li faccio danno mamma mia quanto sei mi lasci cos'è non è una porta non si capisce un cazzo questo gioco non si sa quali sono le porte è davvero 26 metri signorina ma toraga mi sono cacato mi sono cacato che non me l'aspettavo apri tutto dov'è sta porta giochiamo gioca sola la minchia che ammangono su amazon da liberatori ti pego ti pego mi lascio ma io sto morendo sto morendo malissimo ma io lascia mi lascia ti pego non mi ammazzare tesi il cazzo dai che devo prendermi l'acqua ossigenata porca puttana non aiutate voi usa è l'acqua santa dov'era la porta qua si passa di qua di qua ok si apre veloce questa non avevo mai aperta cos'è maschera del piacere goto abbiamo una maschera ma qua si passa aspetta aspetta attenzione ok ok ce la stiamo esplorando ok già è una zona nuova cos'è questo qua non cazzo porca puttana mamma mia raga cazzo dispare andrea scarte aspetta io mi devo craftare delle munizioni ma che si faceva grazie veloce posso uscire c'è dalla crepa alla crepa la luce la luce entra la luce aria fredda forse potrei distruggerlo la bomba tira la bomba non ci sto capendo il cazzo hai mandato all'aria la caccia porca puttana sei sei una troia capito la gente piace sto gioco solo per fatti caccare addosso affanculo sono cacazzo andate a te ma con i sondaggi si muore prima o poi vuoi morire oh come corre cacazzari slida sono morto sono morto passa la pistola ma muore ma porca puttana cosa fare sei la mia la mia prega la mia morto acqua prendete l'acqua ossigenata strega di merda una troia no strega dammi dammi tutto rimaldello bomba artigianale bradomeo ruba auguri brother quanti anni hai fatto bro forza madonna mia le guarda mike io non ti insomma oh dove cazzo si va qui buttati a questo punto bradomeo grazie del follow andrea sottolinea turano i 6 di x1 guarda in alto ne sono valsi la pena andrea ti ringrazio è stato il bit più importante della mia vita oh minchia lo sapevo cos'è lo svito è il teschio di animale ora cazzo faccio sta dietro poi abbiamo il teschio di animale lo posso mettere qua oh si e cosa è successo ah minchia oh porca puttana mike questa dove va oh sala della giova qua mike ci siamo andati oh porca puttana chiusa dall'altro lato qual è un altro lato e dove se ci può andare qua massimo da sopra c'ha delle scale ok si sale in teoria è da qui che andiamo poi su quelle zone nuove se ritroviamo le scale in teoria attenzione il rossetto vabbè vabbè aspetta siiii vado no cos'è dai ma sempre finalmente sei venuto a trovarmi non sono venuto io si innamorano no no così ci muoio qua sono finestre queste no e così ci muoio io le porte sono bloccate qua indistruttibile povero non sai dove scappare cosa devo fare no ti ragisci che cattiveria eh si ma ora cosa faccio cosa faccio il tipo è proprio questo questa è l'ultima in teoria tra l'altro ragazzi solo le bombe ragazzi poi siamo a morte a quanto le tira lo ah 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 non voglio morire ah ah è morta vado raga il tempo che culo basta insetti oh gli ho ucciso tutte le figlie quella la di quattro metri e mezzo ragazzi sarà incazzatissima e su quattro dai dai che ce la stiamo facendo ah questo era l'altro lato ecco di dove eravamo prima nell'altro perfetto ma manca porco ma di porco sei un porco andrea sei un porco messo ma tu mi sembrava lei però io un quadro raga proprio come si dice ha la grandezza naturale qua c'è una campana ma non posso interagire secondo me fa sì che le cinque campane risuonino cinque campane una non è qua una pendola lì cosa devo fare scusa vediamo se troviamo altri indizi parliamo è artemio questo mi pare che era lui quando era giovane può essere che devo sparare la campana però vogliamo proviamo da qui magari abbiamo una oh è una campana no? guarda quattro ed è per forza la quinta è qua non è che questo è una campana? cinque però raga vedi eh ci siamo dei coglioni nonostante la lappe rossa vuol dire che hai lasciato qualche oggetto eh sì in teoria si apre questa perché qua c'è una scala posso credere che è una scala che non cerca un cazzo ma guarda il quadro si è aperto davanti ai tuoi occhi Sly secondo me di lì pare che da qualche parte nel castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte si tratta di un gemello risalente al medioevo rivestito con una nestuta di veleni provenienti da tutto il continente fu fabbricato da artemio per uccidere demoni e morte minchia a termine era anche ma che forgiava il culo tutti ora basta finita oddio entra entra prima sera aperta porca di una puttana guarda mi hanno chiuso dai non posso morire così non ho finito i colpi no ho finito i colpi no ho finito i colpi no ho finito i colpi se gli ho i colpi è lui che non spara donna mia che tornata che li ho fatto guarda mio grazie buonanotte storm vero mio donna mia so son da alberti del cazzo grazie mike dei vittima andrea sottolinea turanoisate cheer di x1 dai su lei una qui guarda la faccia la qui che aspetta oh hai rotto i coglioni però qua vado da duca da artemio qua il venditore critichi con lui non ti incazzare però eh qua metti le maschere non è no questa maschera non va qui non vedi che mi insegue una troia di sei metri ho ampliato i miei servizi qua dobbiamo andare è lì il tesoro aspetta qua c'è il prima teo guarda mio grazie del follow ve l'ho minchia ho sfatato un colpo anti scamo vai apri porca puttana c'è se vuoi passare al culo grosso culo grosso buona mia ma ti prego lasciami meno male che mi butto dall'altra parte guarda a me mi hai sbagato grazie signorina fluido chimico godo godo crafta ma cazzo crafta us ah ce l'avevo ce l'avevo ok c'è una tomba hai la maschera che mi serve ok c'è una tomba indicazioni su come fare una bomba artigianale non mi direi che devo lanciare la bomba ah vabbè ho capito lancio la bomba artigianale qui il gioco te l'ha pure fatto trovare il chiaro esempio di dire rompi il muro in modo che esplode la vita e poi fai pendolare questo qui così lo accendi no come ma vabbè fatto oh mx mx bello mio ah se sparo si incendia dai ma che cazzo l'ho letto dopo lo sapevo occhio azzurro appena non c'è niente ma che tipo no hai raggiapare sca puttana allora allora quindi eravamo qua qua abbiamo preso la mappa ha regalato una sub dai mike ha un cedro è arrivata guarda tu ha un cedro guarda mio mike basta bro basta bro e qua noi abbiamo preso l'ascensore ma ancora potevamo esplorare il mondo solo che ci sono queste cose le l'inc flautoto che beta è grazie ma domanda mia che mira che mira che ho zaga ora no ora è ancora vivo tu linds condenaturo amiche cir Dx 1 baciami il capezzolino boccali di birra che brindano 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 hai finito mike guarda guarda mike non ti sei più fatto perdonare Cos'è? Oh! Dove mi chiamato ora? Torre della furia! Oh, il gancio! Ma mi è arrivato in mano questo gancio? Vabbè, abbiamo un gancio. Oh, la maschera! Ok, adesso posso uscire da qui. Sè! Ma c'era una scala! Fai, l'ultima maschera! Vai, veloce, veloce, ce ne andiamo da sto posto di merda. Metti lì la maschera. Che non funziona? Ok. Veloce, ma poi che silenziose. Artemio! Artemio! Proteggimi tu. Ok, lei se n'è andata. Ok, siamo qui, stiamo uscendo finalmente. Siamo liberi. Vabbè, siamo usciti. Questo è un buon punto dove poterci salutare, ragazzotti.